Ehi, avvoltoio! Ehi, avvoltoio! Cosa c'è, serpente? Sai, avvoltoio, che abbiamo delle bevande e le zuccherate, di conservare, di stare bene tutta la notte. Sì, sì, la tua ora è di andare a letto alle 10.30 e come i 30 minuti? Sì, sto andando a letto stanotte. Ok, ok, avvoltoio? Ok, serpente. Va bene, avvoltoio. Stasera, negli appartamenti della... Benvenuta in tutto più del nobile! Oh sì, sono orgogliosa di te. Il tutto più del nobile. Probabila. L'uolio, 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 l'uolio. No, 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 no. Yeah, oh yeah. Yeah, yeah, così, yeah, davvero. ce l'abbiamo serpente sei stanco? serpente più 2000 serpente puoi dormire amico sì sì vado a dormire voglio chiudere gli occhi buona nota sì 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 sì